Ecco, è partito il gruppo dello Sciclub Senigallia, con in testa non si capisce chi è, comunque eccolo lì, tutto il gruppo, 18 elementi della pattuglia acrobatica qui al Sesceda, 23 gennaio 2011, Giorgio, ecco adesso lo riconosco, Giorgio è partito con tutto il gruppo dietro, guardate che bel serpentone, Giorgio sei andato troppo forte, li hai asseminati tutti, ecco qua, guarda che bel gruppo ragazzi, guardate che spettacolo, ecco riconosco Arnaldo, Maurizio, Paola, guarda tutti qua, guarda che bel gruppo, serpentone che non finisce mai, Barigelli, Stefano, Oliva, Alessandro, Andrea, il piccolino del gruppo con la mamma, ecco qua la mamma d'Andrea, Gigliola, ecco qua, guardate, avete alzato un gran polverone tra tutti, bravi ragazzi, adesso giù, verso nuove avventure, basta Bombardino!